Non pensavo che sarebbe sceso così in basso. Che schifo. Che schifo, regà. Mi è calato un botto. Mi è calato un botto, homeowner, regà, dopo sto video, non lo so, non... Gli ho tolto il follo. Non lo so, non si fanno ste cose, secondo me. Non si fanno ste cose, secondo me, regà. Boh, non mi è piaciuto per niente. Lo faccio vedere che cazzo ha fatto. Sti cazzi dei Laziali, poverini. La squadra che mi interessa a meno, la Lazio. Mi piace molto come squadra, ma effettivamente è un po'... Penso che ce ne siano anche di meno considerate. A malincuore la mia Benevento, devo dire. Benevento, ma il cazzo sta dietro. Grazie, panole. Io a me, io si parla di tutti i Laziali quando viveva a Roma, perché non sente meno dei Romanisti. Allora. I tifosi della Lazio, a parte che non esiste un censimento, saranno pure meno di quelli della Roma, effettivamente. Ma per una questione di nome, di nome. Ovviamente Roma, si chiama Roma, eh, siamo più romanisti. Ma a livello di storia, la storia della Lazio è molto più avvincente di quella della Roma. Ok? Ok, ci siamo fatti la Serie B. È vero, io tra l'altro non ero nato. Siamo stati in Serie B. La Lazio è stata in Serie B. Ha fatto una cosa assurda in Serie B, tra l'altro. Penalizzata più e più volte. È riuscita a salvarsi durante, eh, con fascetti proprio risicatissimi, facendo uno spareggio contro una squadra del merda. Non mi ricordo chi era, a me pare, tipo, boh, il campo basso. Non mi ricordo il cazzo era. Si sono salvati, da lì poi c'è stata risalita fino in Serie A. È stata una cosa fighissima, è stata una cosa bellissima. C'è tutta una storia dietro. E quindi devi portare rispetto alla Lazio, a me tolto. Devi portare rispetto alla Lazio. Perché ha sempre avuto una storia travagliata, con problemi di calcio scommesse provocati dai calciatori. Sempre è stata sfigatissima, capito? Eppure è sempre stata lì. E ha vinto uno scudetto? No, ha vinto due scudetti. Forza Roma! Ha vinto due scudetti? Ha vinto... Una Coppa delle Coppe, ha vinto la Supercoppa Europea. I romanisti, devo dire che non mi piace la mentalità dei romanisti, neanche quella dei laziali. La mentalità dei romanisti e dei laziali? Ma intende quella mentalità? Sono d'accordo anch'io. Però i laziali sono un po' sfortunatamente sempre un po'... Sono sempre un po' di male. Vabbè, poi parte una canzone napoletana, così non si sa. Vabbè, ok. Andrea. Andrea. Lui ti fa il Milan, capirai, capito? Il Milan ha vinto Berlusconi. Poi che cazzo ci date i gragnotti che lui ci ha avuto Berlusconi, porco due. Che per far bella figura in Italia si è preso il Milan, che era la squadra più titolata a quel momento. Anzi, no, non era la più titolata, ha preso una squadra più pubblico. Eh? Berlusconi, oh. Ma dove viene la Lazio, Berlusconi, tempito? Vediamo che su scommetto vince pure la Lazio. Grazie al cazzo. Poi adesso è cip. Non me lo pede il cazzo. Sto rispondendo a mia tolle che dista la mia squadra. Le vere squadre si vedono dal cuore, non dai soldi che spendono sul mercato. Guarda il Paris Saint-Germain. Sai, in un campionato di merda, il manco sta rischiando addirittura di non vincere lo scudetto con quella squadra che si ritrova e non riesce a vincere una Champions League. Forse quest'anno ci riesce, forse. Eh? Eh?